Il sentiero Perrubio, 5 chilometri, preparazione invernale 2020. 100 punti chi va dentro l'acqua, dai! Il sentiero Perrubio, 5 chilometri, preparazione invernale 2020. 2 minuti, preparazione invernale 2020. Grazie a tutti. Eccolo, eccolo. Vedremo la fine della salita in una fila. Bisogna partire un po' Gagliardi. Noi giochiamo di esperienza. Tuo la gamba buona oggi, eh. Quanto che ho fatto oggi? Oggi. L'attacco tutti oggi. Tuo la gamba buona, ve lo dico. Vedremo. Ecco il muro. Senza disperanza. Deocista. Vai su di forza. Ando che a Siana. Dov'è mai? Se tiene sul 52 e distacchi. Faccio il top. Vai. Cos'è? Vai a giù. Vai, che cosa si cominciare? Cos'è? La feina. 6- spots c'è. Ciò? Beh. Coach , Io. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sembra che non riesca a tenere il passo. E' vecchio qua di merda. Mi hanno fatto fuori tutti tra le due. E' anche ancora. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.